In Giappone esiste una specie di pesce chiamata Carpacoi che può vivere fino a 226 anni. Per scattare le foto di Google Street View, ad Abu Dhabi si usano i cammelli. I rati possono moltiplicarsi così rapidamente che, in soli 18 mesi, una coppia può avere oltre un milione di discendenti. Se si applica una piccola quantità di alcol su uno scorpione, quest'ultimo impazzirà e si ucciderà con il suo stesso pungiglione. Turitopsis nutricula, nota come medusa immortale, è l'unico essere vivente sul pianeta che non muore. Il cavalluccio marino è l'unico animale ai cui i maschi partoriscono. Dopo l'accoppiamento le femmine passano le uova ai compagni che le portano in grembo per 45 giorni fino al parto. Gli scarafaggi possono vivere nove giorni senza la testa, per poi morire di fame. Le mucche riescono a salire le scale, ma non riescono a scenderle, poiché quando devono scendere il loro baricentro si sposta, il peso si concentra davanti e quindi rischierebbero di ruzzolare giù ad ogni passo. I cuccioli di canguro appena nati sono minuscoli, infatti possono entrare in un cucchiaio da caffè per via delle loro dimensioni piccole. Il metabolismo dei colibri è talmente veloce che potrebbero rischiare di morire nel giro di poche ore se non mangiano a sufficienza. Esiste un tipo di ape che ama nutrirsi di lacrime umane. Questa ape è chiamata l'isotrigona. Esiste un lago ubicato nella Tanzania, che trasforma gli animali in statue di pietra si chiama Natron. Questo fenomeno è dovuto alla composizione chimica di questo lago. Le zanzare riescono a percepire l'acetone, il metanolo e l'etanolo fino a 30 metri di distanza. Tutti questi elementi sono presenti nell'alcol. È esattamente per questo che i bevitori di birra ed alcolici in genere sono le prede favorite delle zanzare. I gatti non riescono a vedere direttamente sotto al proprio naso. La volta in grado di estrarre e ritrarre gli artigli come i gatti, è l'unico tipo di canide in grado di farlo. L'olio viargan è prodotto dagli escrementi delle capre. Le capre si nutrono delle bacche di questa pianta e le popolazioni berbere ne ricavano i semi. Vengono poi macinati per ricavarne l'olio che è ricco di vitamina e acidi grassi essenziali. L'olio viargan viene usato per il trattamento della pelle e la cottura di piatti tipici marocchini. Quando un gatto si strofina con la testa addosso ad una persona o ad un oggetto non lo fa perché è in cerca di coccole o affetto ma bensì perché a livello della testa ha delle ghiandole con le quali marchi al proprio territorio. Anticamente molte case venivano costruite con mattoni creati da sterco di mucca o cavallo. Lo sterco veniva mischiato ad acqua e fieno. Può sembrare disgustoso ma gli escrementi di questi animali in realtà contengono solo fienno il quale viene digerito e ammorbidito dai succhi gastrici. Questo materiale è piuttosto resistente ed impermeabile. Tutt'oggi è possibile trovare ancora alcune case vecchie costruite con questi materiali in alcuni paesi dell'est. L'orniturinco pur essendo un mammifero non ha l'ombelico perché in realtà depone le uova. Esiste una varietà di formaggio fatto con il latte di asina. Il formaggio di asina infatti è uno dei più costosi, il suo prezzo si aggira attorno agli 800 euro al chilo e potrebbe perfino aumentare. 20 curiosità sul mondo animale finisce qua, grazie a tutti per l'attenzione, ricordatevi di iscrivervi al canale e a presto.